I cartelli in strada indicavano un prezzo, ma il totalizzatore sulle pompe di benzina aveva una maggiorazione di 20 centesimi al litro. Con questo trucchetto un benzinaio no brand del pescarese riusciva ad attirare gli automobilisti, che sfiancati dai prezzi stellari del carburante, cercano i distributori con le offerte migliori. I clienti però, senza accorgersene, pagavano per ogni pieno effettuato circa 10 euro in più rispetto a quanto esposto sulla segnaletica. Il benzinaio in questione è l'unico che la Guardia di Finanza di Pescara ha beccato con le mani nel sacco nel corso di 5 giorni di controlli. Si tratta dell'operazione No Stop. In questi 5 giorni le fiamme gialle hanno effettuato 5 controlli sulla circolazione delle accise e 39 verifiche sul rilevamento dei prezzi. La prima fase dell'operazione, quella dei controlli sulle pompe, si è conclusa ieri, accertando il guadagno illecito del benzinaio scoperto. Quest'ora rischia le accuse di truffa aggravata e agiotaggio, ovvero la speculazione sui rincari dei prezzi. La seconda fase dell'operazione No Stop, invece, è partita oggi. Riguarda la ricerca di mercati degli idrocarburi, definiti opachi, e in parallelo l'analisi sull'andamento dei prezzi rispetto al PLAZ, ovvero l'agenzia specializzata che in dollari americani definisce il valore in base a cui il carburante può essere venduto alle raffinerie. L'attività investigativa procederà dal basso verso l'alto, dalla provincia al mercato globale, fanno sapere dalla Guardia di Finanza. Intanto questa notte sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale i decreti approvati lo scorso 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, che quindi sono in vigore da oggi. Tra i provvedimenti c'è anche la riduzione dell'accisa sui carburanti. Il taglio delle imposte per benzina e diesel vale 25 centesimi al litro, a cui aggiungere l'IVA al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta a 30,5 centesimi. Per il GPL le accise diminuiscono invece di 8,5 centesimi, sommando l'IVA si arriva al consumo a 10,37 centesimi. Così il prezzo del carburante, per la prima volta da due settimane, dovrebbe scendere sotto quota 2 euro. La riduzione delle accise avrà la durata di 30 giorni. La Guardia di Finanza Pescarese ha annunciato che monitorerà anche il settore dell'agroalimentare, a caccia di speculazioni sui rincari dei prezzi dei beni di prima necessità.